Degli uomini mi hanno ingaggiato perché devo scoprire il tipo che si scova la moglie del mio boss Prego Ti supplico, dimmi chi è È Giulio Ti serve un'arma? Tu sei incredibile Tu invece sei abbastanza scarso Se non ci fossi io, eh? Giulio, è lì? No Lo sto cercando ma non mi risponde Ciao, Risa Mi chiamo Elena Secondo voi è possibile concepire un figlio senza fare l'amore? Un bello schizzo diretto e preciso Quando Andrea Mariante sarei Calcagna, anche io sparirei nel nulla Ma il ragazzo mi preoccupa Giulio Beh, deve essere un tipo veramente eccezionale E chi è il vero colpevo? Giulio! Mi chiama Giulio! Non lo farei mai, lo sai A Sapello mi facevo i cazzi mia